eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo a parlare della beta di black ops 4 perché ci sono veramente tantissime informazioni per voi come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo video informativo mi scuso per tutti coloro che mi stanno mandando i commenti in merito a world war 2 ragazzi ma non ci sono informazioni sul titolo della sledgehammer games l'unica cosa che vi posso dire è che un indiscrezione parla del 28 di agosto come data di rilascio del dlc 4 di world war 2 l'ultimo dlc del titolo della sledgehammer games quindi la prossima settimana ci potremo aspettare il reveal trailer del dlc 4 del titolo mi dispiace ragazzi ma non ci sono informazioni da riportare importanti quindi volete o non volete bisogna per forza parlare dei call of duty di cui activision e trailer che rilasciano informazioni dopo questa piccola premessa torniamo a parlare di black ops 4 perché activision ha dichiarato che durante la games con 2018 che si svolgerà in germania dal 21 al 25 di agosto call of duty black ops 4 sarà giocabile avete capito bene il titolo sarà giocabile soprattutto il multiplayer sarà giocabile allo stand asus su pc e ci sarà la possibilità di provare una nuovissima mappa multiplayer quindi la prossima settimana scopriremo una nuova mappa del multiplayer di call of duty black ops 4 non è finita qui perché activision e trailer che hanno rilasciato un recap quindi un riassunto di tutto quello che riguarda la beta e hanno analizzato tutto quello che è successo appunto nelle due settimane di beta e ci hanno spiegato anche tutto quello che modificheranno all'interno del gioco finale partiamo innanzitutto con le modifiche hanno dichiarato infatti che ci saranno modifiche alla minimappa infatti stanno aggiungendo un indicatore aggiuntivo che ci consentirà di sapere quando saremo visibili ai giocatori nemici nella minimappa in modo da poter reagire di conseguenza i punti rossi della minimappa che appaiono quando spareremo con la nostra arma svaniranno più velocemente quindi ci sarà più tempo per evadere dopo che avremo ingaggiato uno scontro a fuoco ed inoltre questi stessi punti rossi non rileveranno più i compagni di squadra che sono vicini al giocatore che spara con la pistola sarà modificato moltissimo il sistema di spawn infatti dichiarano che è fondamentale il sistema di spawn per garantire che il gameplay di black ops 4 sia perfetto il problema che è influenzato da una serie di fattori che si differenziano in ogni mappa e modalità ma a quanto pare hanno una suite di strumenti che gli consente di tenere traccia degli spawn sbagliati spawn in cui i giocatori danno o ricevono danno entro tre secondi e quindi vogliono apportare modifiche per evitare che ciò si verifichi hanno dichiarato che è impossibile ottenere la percentuale di spawn pari a zero ma si stanno sintonizzando per ottenere il più basso errore dichiarano tra un intervallo tra il 2 e il 3 per cento e i problemi sono stati causati principalmente su dominio il team sta lavorando per risolvere questi problemi affinché all'interno del lancio del gioco il sistema di spawn sia risolto la trailer che sta portando modifiche anche al tac deploy che è stato progettato per dare la possibilità di rinderezzare il flusso del combattimento in momenti strategicamente importanti creando un'area di spawn secondaria nella mappa il concetto è stato ispirato dalle tattiche impiegate dalla community durante la riproduzione di hardpoint in black ops 2 in cui un compagno di squadra avrebbe ancorato il suo spawn sul prossimo hardpoint per portare la squadra sull'obiettivo più velocemente questo combattimento però non era una tattica valida ma divenne necessario per vincere la modalità quindi il tac deploy porta quest'idea in altre modalità con l'obiettivo di creare periodici cambi di squadra per prendere o difendere un obiettivo uscire da un modello o spingere strategicamente in una nuova direzione quindi il tac deploy nella beta ha dimostrato di essere un po' troppo forte e capire quando è stato schierato e quindi lo stanno modificando per il lancio del gioco altra cosa molto importante hanno parlato appunto del nuovo sistema di perk body armor e gear praticamente hanno dichiarato che se giochiamo in maniera aggressiva e quindi ci piacciono i scontri a fuoco dobbiamo utilizzare la fiala quindi lo steamshot se un giocatore preferisce avere più ricompensa ovviamente il dispositivo comsec se invece il giocatore gli piace giocare vicino appunto agli obiettivi deve utilizzare l'armatura il bilanciamento per questa categoria purtroppo non è stato definito in tempo per la beta e lo miglioreranno per il lancio la fiala lo steamshot è stato praticamente il perk più popolare a quanto pare il body armor invece è stato quello più controverso adesso gli esplosivi dovrebbero distruggere l'armatura e questo non funzionava nella beta il danno ora è stato ridotto dell'armatura piuttosto che essere completamente deviato da esso e adesso otterremo un bonus extra di 25 punti bonus però in uccisione contro i giocatori che utilizzano appunto l'armeria in modo di alimentare il nostro misuratore delle score streak altra modifica molto importante è la navigazione all'interno del gioco in tantissimi si erano lamentati di questo indicatore di questo cursore che si poteva utilizzare come una sorta di mouse bene la trailer che ha dichiarato che all'interno del gioco ci potremo spostare rapidamente all'interno del titolo anche grazie al d-pad in ogni menu quindi avremo sia la navigazione libera che la navigazione con i cursori quindi tante novità per il 12 di ottobre il lancio di call of duty black ops 4 mentre la prossima settimana potremo scoprire già una nuova mappa multiplayer qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate arriviamo a 500 di piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video